Comiso esce dal consorzio universitario. Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri, ha votato all'unanimità il recesso dal consorzio, che gestisce ormai a Ragusa solo il corso di laurea in lingue. In tempi di crisi, il Comune non può più sostenere i costi, sia pur limitati, che questo comporta. E peraltro, anche le annualità precedenti sono ancora da saldare e per questo sono arrivate le ingiunzioni di pagamento ed il commissario ad acta. Ma per il futuro, questi costi saranno eliminati. Il Consiglio ha anche deciso l'istituzione di una commissione di indagine chiesta dal PD sulla situazione della raccolta differenziata, sui disservizi e gli eventuali rischi per la salute pubblica. La conferenza dei capigruppo si riunirà il 10 gennaio e deciderà la composizione ed i compiti assegnati alla Commissione. Dopo gli adempimenti di fine anno, l'attesa è ora per la seduta del 9 gennaio. In aula arriverà la proposta per la dichiarazione di dissesto, inevitabile, almeno sembra, in mancanza di fatti nuovi da Roma o da Palermo.